Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Diplomacy is not an option, un gioco in uscita il 9 di febbraio e ragion per cui non so ancora dirvi il prezzo, uscirà in versione Early Access, è disponibile ora la demo, se volete provarla sul tubo, sul tubo, su Steam, scusate, però è previsto la Rilash in 1.0 nel corso di quest'anno. L'ho trovato tecnicamente ben fatto, scorre via bene, ed è abbastanza particolare, perché vi dico solo questa cosa, io non amo troppo i Tower Defense, ma questo l'ho particolarmente apprezzato. Onestamente, qui c'è la campagna, onestamente volevo farvi vedere il tutorial, ma vi farò vedere un mix di tutto, perché abbiamo la possibilità di giocarci il tutorial, e il tutorial va a spiegarci in 21 punti tutto quello che possiamo fare, quindi abbiamo la nostra interfaccia, abbiamo la possibilità di ingrandire, abbiamo la possibilità di ruotare la visuale come meglio crediamo, abbiamo la nostra mappa qua sotto, abbiamo la possibilità di espandere o meno l'influenza del nostro municipio, abbiamo la possibilità di selezionare e comandare personalmente, mandarle all'attacco le nostre unità militari, divise in, in questo caso, racceri e fanti e spadaccini, ma in realtà ce ne saranno molte di più. Inoltre il gioco non è basato solo sul realismo, sulla vita reale, ma con la possibilità di evocare anche e creando dei monoliti di sbloccare ulteriori incantesimi. Guardate molto bello il fatto che se ne seleziono uno, si sente proprio la voce dell'oltre tomba. Queste sono delle creature cavalieri oscuri che rimangono il tempo che appunto si esaurisce la barra blu. Tenendo premuto il tasto tab e il tasto altra, scusate, possiamo far vedere la vita. La cosa interessante, e ve lo spiego rapidamente in modo da bypassarvi velocemente il tutorial, intanto questi stanno facendo non so cosa, qua possiamo poi schierarli come meglio crediamo. La cosa interessante di questo gioco è che si tiene conto di tanti parametri, come ad esempio la possibilità di costruire le mura, la possibilità è su Steam, adesso vi mostro qualche immagine di città veramente molto belle create, perché si possono fare mura, adesso qua le abbiamo di legno, ma in realtà le potete fare anche in marmo, insomma in pietra, insomma quello che è in pietra, e usare magari degli elementi naturali per creare delle mura e dei cancelli, e i cancelli possono creare costruzione non solo i nemici ma anche le vostre unità, ma soprattutto se guardiamo qui nella costruzione, il cimitero è una struttura molto importante perché le vostre truppe morendo potrebbero rimanere lì per giorni creando epidemie, e quindi è necessario andare a creare la casa dei costruttori prima per velocizzare la costruzione di case, e la casa dei bicchini anche per prendere i corpi e seppellirli, e il cimitero ha una capienza fino a 256 corpi. Inoltre abbiamo la barra della ricerca, la ricerca va a sbloccare man mano, noi costruiamo degli edifici, dei vari upgrade, e poi va a salire, quindi potenziando il municipio a livello 2, quindi sbloccando il primo ramo andiamo a sbloccare il municipio 2, il municipio 3, e così via via nuove strutture e potenziamenti per le strutture stesse. La trama è davvero molto molto carina perché appunto c'è questa mappa e c'è questa sequenza animata in cui si vede il re che all'inizio gli vengono chiesti soldi, 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 e lui è sempre più annoiato, beve, mangia, sempre più annoiato, e quando scopre che c'è una rivolta da parte dei cittadini lui si carica, insomma, e vabbè. Continuiamo con la mia campagna, vedete la campagna, poi adesso si parte da qui, e poi man mano si va avanti e si fanno altre città, bisogna sopravvivere, anzi, sopravvivere, bisogna completare le missioni. Ora carichiamo l'ultimo save, metto subito in pausa, e questa è la mia... no, scusate, vado a prendere la mia partita di ieri, la mia partita... adesso mi ha salvato il tutorial, questa è la mia partita, metto immediatamente in pausa, infatti vedete che si stoppa tutto, abbiamo... ci viene indicato poi sulla mappa da dove stanno per attaccare i nemici. In sintesi, che cosa ho fatto? Ho costruito due case, perché le case vanno ad aumentare il numero di cittadini massimo, perché la popolazione ogni giorno che passa, c'è il giorno e notte, aumenta. Abbiamo i cittadini liberi, quelli che possono lavorare per noi, infatti se io costruisco in questo caso qua, ho fatto una segheria, prende il legno, lo trasforma in appunto dai tronchi in legno e mi va ad aumentare il parametro legno, poi abbiamo la pietra, poi abbiamo il ferro e poi abbiamo i cristalli dell'anima e qua l'oro. I cristalli dell'anima servono per evocare i cavalieri con gli oscuri e qualora andassimo a creare qualche cosa nuova, tipo... adesso vi faccio vedere bene tutto, questi pilastri, gli obelischi, sblocca il raggio astrale, quindi un raggio controllabile che colpisce tutto sotto di esso. L'obelisco solido 2, sbloccando il municipio 2, ci va a sbloccare cura di massa e poi abbiamo anche le meteore insomma andando avanti a sbloccare le nostre unità. Allora vi faccio vedere anche il pannello della ricerca che ho portato avanti, ho potenziato la caserma aumentando la possibilità di infliggere danno doppio, il 20% da parte dei cecchini. La cosa interessante è che ho costruito le mura, ho costruito questi cancelli, metto in pausa, e premendo sui cancelli possiamo chiuderli. Vedete che bella l'animazione della chiusura dei cancelli. E soprattutto potete prendere i vostri aceri e farli salire sulle mura, quindi vedete che salgono e vanno a difendere. Ora, credo mi manchi, attaccheranno il giorno 10, siamo al giorno 8, quindi ci sono questi ribelli, cittadini insomma, non sono zombie, non è dei rabilions, insomma, sono cittadini ribelli e praticamente hanno già attaccato, si sono ribellati i contadini e attaccano. In realtà poi che io ricordi mi sembravano, sì, sono ribelli un po' dall'aspetto un po' demoniaco, insomma. L'unica cosa che ho fuori città è questa cava di pietra, e loro viaggiano avanti e indietro. Sono già andato personalmente con le mie truppe a razziare un pochino, perché ogni tanto si trovano anche dei carri, degli oggetti da poter prendere, in questo caso mando magari loro e li mando qui a prendere questo cristallo. Una volta che lo vedo non lo prendo. Qua avevo una ballista, con i lice belli che saltano e vanno in giro, avevo una catapulta, non una ballista, e me l'hanno distrutta. Era molto comoda. Lì c'è un corpo, ma in realtà lì fuori città non li ha recuperati il becchino, perché se no c'è il rischio di epidemie. In città c'è già il cimitero con un corpo, si vede la tomba qui, e man mano andrà a riempirsi fino a 256 tombe. Abbiamo anche il mercato, ma il mercato non c'è, dobbiamo costruirlo, e onestamente non so ancora dov'è, perché qua abbiamo il granario, il magazzino per le scorte di cibo, ma tutto ci richiede una quantità di legno veramente enorme, e quindi non so, io sto pensando adesso di fare un altro, ho fatto due capanne dei raccoglitori di bacche, e ogni capanna ha un range che possiamo aumentare, vedete, o diminuire. Adesso vorrei aumentare questo in modo che vadano a raccogliermi anche quelle, e ne ho fatto un'altra qua che va a coprire fino là, nella foresta, ma in realtà andrebbe posizionata magari qui, in modo da raccogliere queste bacche qua. Comunque, qua ci viene dato il cibo, il cibo attualmente ne abbiamo 73, ne consumiamo 42. Bisogna tenere bilanciata questa cosa, perché se la popolazione aumenta, ovvio adesso io non faccio più case, quindi non ne abbiamo più, però bisogna sempre tenere in considerazione che ogni cittadino libero può diventare nella caserma un soldato, uno spadecino o un acerire, adesso in questo caso evoco, cioè crafto, spendendo uno di cibo, che in questo caso è identificato col pesce, ma in realtà pesce pane, qua ho due capanne dei pescatori, pesci che possono essere pescati in più punti, questo, questo, questo e questo, e quando finisce la banchina dei pesci non ce ne sono più. Quindi bisogna fare attenzione perché non è una fonte rinnovabile quella del cibo. Ora, io vorrei fare un'altra casa, anche se mi mancano 25 di legno, adesso ne ho 25, posso farla. La costruiamo qui. In realtà non è una mossa molto lungimirante perché mi stanno per attaccare tra due giorni e io avrei bisogno di costruire le difese, però voglio farvi vedere anche come funziona la costruzione della casa. Il gioco tiene conto anche di leggi fisiche, in pratica sulle mura, gli acera, quanto dicono gli sviluppatori, hanno anche dei punti ciechi e quindi bisogna fare attenzione perché non sparano ovunque, cioè non è così, e le frecce tengono un arco, insomma, della forza di gravità. Inoltre possono succedere tante cose, tra cui appunto le epidemie, le morti, le morti possono avvenire per malattie, depressione, cose varie, quindi bisogna fare anche gli ospedali perché poi ogni cittadino avrà sulla testa un'icona del malessere, insomma, di una faccia verde e dovrà andare in ospedale e se non abbiamo l'ospedale potrebbe morire, a quel punto morendo in città, magari il becchino non va subito a prendere il corpo, infetta altri, insomma, e si ammalano tutti. Queste sono le meccaniche. Dovrei chiudere le mura, ma le mura costano un sacco e al momento non ho abbastanza segherie per poterlo fare. Diamo un'occhiata rapidissima anche agli altri edifici che si possono fare al momento. La volontà degli sviluppatori di mettere a disposizione di tutti, da subito, tutto l'arsenale, ovviamente dovete sbloccarlo. L'abitazione 2, l'abitazione 3, abbiamo Fontana Cittadina, abbiamo la Fontana Cittadina 2 e la Taverna. Questo per quanto riguarda le abitazioni. Lo sviluppo, invece, abbiamo la Casa dei Costruttori, che adesso è piazzata qui, la Casa del Becchino, qua, il cimitero, abbiamo la Casa dei Costruttori 2 e la Casa dei Becchini 2, poi l'ospedale e l'università, che è un livello molto avanzato quello. Abbiamo il Capanno dei Pescatori, la Casa dei Raccoglitori di Bacche, la Fattoria e la Fattoria 2, quindi ci consente questa, con quattro cittadini liberi, di far lavorare e produrre cibo. Questa è una bella cosa da fare, ma dovremmo potenziare il municipio a livello 2. Poi, che altro c'è? L'armata, possiamo fare la caserma, Caserma 2, Caserma 3, la Gilda degli Ingenieri, dove costruire le macchine, le catapulte, e soprattutto, con la Gilda degli Ingenieri di livello 2, possiamo fare la catapulta, la ballista e il trabucco. Molto interessante, e qua gli obelischi, insomma, che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo anche, appunto, la segheria, Casa dei Guardi e Boschi, per ripiantare gli alberi, Miniera di Ferro, che non abbiamo ancora, ma abbiamo la Cava di Pieta, e le Mura, con conseguenti torre, Muro, il Cancello con le due torri, la Torre di Guardia, e poi il Muro di Pieta, e la Torre di livello 1 e livello 2. Questi sono quelli che possiamo fare. Qua, invece, abbiamo il Granaio, il Magazzino, il Granaio, il Mercato, molto interessante, ma ci serve il Municipio di livello 2, e l'Officina, che praticamente dà più 20% di efficienza agli edifici di produzione. Qua abbiamo il nostro Municipio, che possiamo livellare a livello 2, portando 150 ligname e 100 di pietra. Ovviamente non ho né uno né l'altro. Quindi, va bene, sono un po'... Non è affreddato, però ho la tosse. Allora, intanto qua stanno attaccando i maledetti, quindi io li manderei. Questi sono i contadini, anche se hanno un aspetto molto oscuro, ma stanno attaccando. Sono solo una piccola parte, ma io mando tutti. Vorrei capire anche come mandare questi... Vorrei farli... Farli uscire. Ah, ma ci sarà un tasto. Per farli uscire. Sposta fuori. E infatti... Abbiamo sistemato la pratica. Me ne sono accorto giusto per caso. No, vorrei spostare fuori... I miei... Questo... No, non me lo fa. Vabbè, vabbè, poco male. Allora. Allora. Questi non riesco più a portarli fuori dalla torre. Attacca il più vicino. Attacca il più forte. Distruggi. Ripara. L'autoriparazione è una... È una cosa importante. È uscito qualcuno da qui, però. Posso dirgli di andare fuori, di andare fuori. Vediamo. Vai fuori, vai fuori. Vediamo se ci vanno, ma effettivamente... Mi sa che loro se ne stanno sulla torre lì. Eh, vabbè. Troverò un modo per portarli fuori. Ah, posso spostarli da una torre all'altra. Ma dai. Ah, vedete che si spostano, ok. Io clicco qui. Lo mando giù. No, non... No, non me li fa uscire. Vabbè. Ci studieremo. Comunque, intanto, dovremmo avere sei cittadini. Quindi a questo punto mi produco altri aceri. Faccio... Ok. Produciamo questo perché tra due minuti attaccano. Quindi io adesso ho posizionato, vedete, questa bandiera qui che ogni volta che viene prodotto un'unità va direttamente di là. Non è detto che ce la faremo a sopravvivere. Però, vabbè, parte interessante di questo gioco è anche la storia. E soprattutto il fatto di poter sfruttare al meglio l'ambiente. Le mura, vi faccio vedere come funzionano. Le mura le possiamo costruire. In questo caso possiamo prolungare questo muro oppure fare una cosa così. Posiziono qui. Faccio così. E così. Doppio clicca e mi vanno a costruire i cittadini le mura. Non è molto intelligente come cosa fare il muro lì, però bisogna cominciare. Allora, intanto... Qua mi sta portando fuori questi. Colpo critico. Ok, sì, perché hanno il potenziamento loro. Allora, io vorrei... Possiamo potenziare, spendendo anche due di ferro la zona qui. Ogni zona è potenziabile. Statistiche di impiego. Ok, niente. E... Voglio farli uscire. Sposta fuori. Vabbè, cancello di legno. Sposta fuori. No, non me li porta fuori. Mura. Ah, me li ha portati giù. Ok. No, non me li... Non me li seleziono. No, ma in qualche modo sono riuscito a farli uscire. Comunque, abbiamo... L'attacco che avverrà da sotto. Quindi, io inizio a mettere gli aceri, li posiziono qui. E poi... Andate. E tutti gli altri li posiziono davanti. Qui. Anzi, mettiamoli qui. Ok, se riuscissi a far arrivare anche quei tizi lì, però, sei secondi attaccano. Non siamo proprio messi benissimo. Dovrei portare giù anche questi, ma... Vabbè. E qui arriva la natura, Tower Defense, del titolo. Non siamo tantissimi e probabilmente questa... Questa cosa qui ci porterà via tutti. Non riesco a farli uscire. Ok, dai, stanno arrivando. Dobbiamo dargli una bella... Una bella botta adesso. E poi la casa... La città è stata fatta troppo grossa. Avrei dovuto farla... Beh, intanto chiudiamo le mura. Chiudiamo anche di qua, che si sa mai... Tanto è un giro da qui. Quindi... Eccoli. Voi, fate il giro da dietro. Prendeteli... Minchia, quanti sono! Niente, siamo condannati. Minchia. Mamma mia. Ragazzi, no, è andata. Cerchiamo di mantenerli il più possibile, ma secondo me... Finisce male. Ma forse... Gli aceri... Gli aceri... Gli aceri forse riescono a fare... Qualcosa di positivo, eh. Cioè... Sono tantissimi. Non abbiamo nemmeno nuove unità, quindi non ce la facciamo ad evocarne altri. No, ma non ce la facciamo. Non ce la facciamo, no. Stanno già demolendo tutto. E la mia partita è stata veramente poco lungimirante. Però, però, però... Abbiamo la possibilità di fare uno di questi. Lo facciamo subito. E lo portiamo qui. Intanto gli aceri sono andati giù. Mi stanno demolendo le case. Intanto il tizio lì è arrivato. Ma non ce l'abbiamo fatta. Bastava qualcosina in più, eh, a dire la verità. Adesso io devo capire come cacchio portare fuori questi qua. Ah, eccoli come. Ok. Attaccate quelli. Alla fine è brutto che sembrano demoni, ma in realtà demoni non sono. Hanno demolito le case. E magari con un po' di strategia riusciamo a... Perché quando buttano giù il municipio la partita è persa. Però, dato che si frammentano, forse ce la facciamo. E sarebbe una vittoria epica. Qualora dovessimo farcela. Intanto il municipio ci metterà una vita a andare giù. Intanto. Ok. Dai. Fatele da lì. Così i loro stupidi non capiscono da dove arrivano le faice. Pian piano li sterminiamo tutti. Sì, ce l'ho capito tardi di come fare. Ok, direi che è andata. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ma in realtà non è finita. Perché i becchini dovranno portare i corpi al cimitero. Infatti sono già all'opera. Infatti vedete che bello il mister becchino qui. I cittadini non sono selezionabili. Quindi andrà, prenderà il corpo e lo porterà di là. Intanto noi rimetteremo insieme una truppa. Tra l'altro, allora il cibo, ok. I cittadini sono diminuiti. Quindi probabilmente col cambio di giornata saliremo ancora. Quindi sono due giorni che dobbiamo attendere. E al giorno 11, al giorno 13, due giorni arriveranno 18 persone. Quindi possiamo produrre... Ci manca anche il legname. Per fare gli aceri ci manca il legname. Quindi, che cacchio c'è qua? Eccolo lì. Il problema è che... Dobbiamo mandare due di questi. E mandiamo trae, dai. A demolire il tizio lì che sta dando fastidio. Mentre qua iniziamo a produrre... Un po' di questi. Un po' di soldati. Intanto lui va e sistema la... Ah ma stanno arrivando ancora. Non c'è mai fine. Ma in realtà sto producendo fortunatamente delle truppe che stanno dando una mano. E' tosta eh. Ma cosa? Intanto, quelli sono andati a liberare quella zona là. Ok. Bisogna tenere sempre alta la guardia. Assolutamente sì. Devono riparare. Poi ci sarà l'addetto alle costruzioni che riparerà gli edifici. Questi si stanno ammocchiando qua. Eh sì, intanto vedete che lui intanto continua a portare i corpi. State lontano dai corpi perché non vorrei mai che vi ammalaste per i fatti vostri. Eh, al momento abbiamo gli arcieri che li riportiamo qui. E il legname me lo tengo per fare anche qualche arciere. Col cambio della giornata aumenterà la popolazione. E quindi saliremo un pochino di livello con l'esercito. Ma vi dico già. Vedo un punto rosso qui. Eh sì, questi maledetti stanno attaccando lì. Andiamo. E' tosto, è tosto. Allora, dico subito una conclusione. Graficamente è gradevolissimo. Io non amo i Tower Defense, ma non è eccessivamente complesso da padroneggiare, da gestire, perlomeno per quanto riguarda le risorse. E come vi ho mostrato prima, a livello strutturale può diventare veramente carino. Ovviamente il nome è un po' fuorviante perché Diplomacy is not an option. Vi fa pensare a qualcosa di magari gestionale dove dovete appunto fare diplomazia. In realtà in questo gioco non c'è la diplomazia. Si combatte e ogni diverbio si conclude sicuramente con uno scontro. Il gioco è completamente tradotto in italiano. Anche nelle scene animate dove ci sono i fumetti, dove c'è il re che gli chiedono i soldi, insomma. E' molto divertente come cosa. Me la sto sudando come prima missione perché è veramente tosta ed è sfidante. Perché comunque ogni partita può durare anche questa qui. Questa partita qui sta durando da un'oretta più o meno. E siamo forse giunti alla fine adesso. L'ondata 4 arriverà nel tredicesimo giorno. Tra l'altro, stupido io, che non ho usato i cavalieri oscuri. Anzi, mi domando anche se sia possibile magari evocare, creare l'obelisco semplice. Dove possiamo sbloccare anche il raggio astrale. Dato che abbiamo accumulato un po' di cose, potremmo magari fare qualcosa di magico. Intanto il cimitero si sta andando a riempire. E' davvero carino. Non ha niente a che vedere con Going Medieval, per quanto magari lo rievochi un pochino graficamente. Ma Going Medieval è un'altra cosa, tutto un altro gioco. Non è un difendi la città. E bisogna sempre tenere l'occhio. Attaccheranno su due fronti. Attaccheranno da qua. Probabilmente arriveranno da qui o dal boschetto della mia fantasia. E attaccheranno anche da qua. Oh cacchio. Stanno già attaccando di là? Sono arrivati nove cittadini nuovi. Quindi io li... Cavoli, non abbiamo un legname. Quindi mi faccio altri fanti. Anche se gli eroi di questa vicenda sono stati gli aceri perché l'hanno svoltata loro. Non è semplice. Non è assolutamente un gioco semplice. E lo sto giocando a normale. Potremmo giocarla a livello molto semplice. Vi faccio vedere un'ultima cosa. In conclusione io salvo la partita come indie. Vi faccio vedere come funziona la campagna quando cominciate una partita. Vedete? Difficoltà riuscita... Forse ho fatto normale. Comunque in sintesi questo è il re molto annoiato. Ed sono le fasi iniziali in cui ci spiegano comunque l'evoluzione della storia. Perché qua il re ha con tutte le sue imprese appese a parete. Il mio signore mi chiede nuovi tendaggi. E allora gli dai soldi. Seta. Con fronzoli dorati. E alla fine finirà per non averne più. E poi la partita inizia con gli obiettivi. Uccidere tutti i ribelli nella valle. E quattro ondate da cui resistere. A cui io ho resistito a attare. E si inizia da capo. Insomma fatemi sapere che cosa ne pensate di questo diplomacy is not an option. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Grazie per la visione